A quasi due anni dalla strage, lei ritorna in questi luoghi e vede una situazione cambiata, ma una situazione che non si vede. Sì, molto spesso noi vediamo nelle notizie di un attacco terroristico, sappiamo delle vittime immediate e sono solitamente delle storie veramente drammatiche, ma nessuno ci informa sulle conseguenze del terrorismo. I terroristi hanno sempre degli obiettivi politici e anche militari, tanto che non si parla di quali sono questi obiettivi e se riescono a raggiungere questi obiettivi. Come abbiamo visto a Garissa, il risultato dell'attentato, oltre a far terrorizzare un intero paese e massacrare un gruppo di studenti inermi, è stato sostanzialmente di fare una pulizia etnica più o meno e religiosa del territorio, perché sono scappati giustamente per paura moltissimi insegnanti, molto personale sanitario, lasciando tutto il territorio del nord-est del Kenya sostanzialmente sguarnito e con un senso di abbandono rispetto al resto del mondo molto molto marcato. E questo credo che era l'obiettivo dei terroristi, per poter poi insediarsi maggiormente sul territorio e raccogliere più adesioni. Quindi Buia Mezzogiorno vuole raccontare oltre quello che è successo, oltre quello che i media nazionali, internazionali e di tutto il mondo hanno evidenziato. Buia Mezzogiorno vuole raccontare il buio che emerge dopo gli attentati terroristici, quando per paura del terrore la gente fugge e abbandona dei territori. Allora siccome tante parti del mondo, dalla Nigeria dove c'è Boko Haram, la Somalia dove c'è Al-Shabaab, in Mali, in Libia, ma anche in Iraq, in Iranna, in Afghanistan, dove ci sono tantissimi attentati terroristici, noi vediamo la notizia immediata, ma non teniamo conto delle conseguenze di questi attacchi e dello stato di abbandono di questi territori e che cosa potenzialmente succede sia nel presente alle persone che potenzialmente a una società che cambia.